Nuovo ride dei tombaroli nel sito archeologico della Magna Grecia di Eraclea Minoa. Ancora una volta i cercatori abusivi di antichità hanno deturpato e rubato in una delle aree archeologiche siciliane più importanti. Un impiegato del polo museale di Eraclea recatosi nella zona archeologica ha scoperto che una porzione di terreno era praticamente stata ridotta a un groviera da una trentina di scavi abusive. Buchi di diametro compreso dai 10 ai 30 centimetri aperti dai tombaroli che si erano messi alla ricerca di vasi su pellettili e qualsiasi oggetto di valore storico. L'impiegato ha subito denunciato l'accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Nella zona sono presenti alcuni impianti di videosorveglianza e la speranza di inquirenti e investigatori è quella di riuscire a dare rapidamente un volta e un nome ai responsabili, anche per recuperare l'eventuale bottino prima che magari venga venduto a collezionisti senza scrupoli che pagano fior di quattrini pur di avere in casa beni che invece dovrebbero essere custoditi nei musei. Alcuni anni fa nel territorio nisseno, con il blitz Demetra da cui è scaturito un processo attualmente in corso, venne smantellata una rete di tombaroli attiva nella nostra provincia e che aveva contatti con alcuni clienti facoltosi del nord Italia e addirittura una ramificazione a Londra.